Lo conoscete, perfetto, così sicuro di sé, controllato. Credevo che non avrei mai potuto reggere il suo confronto, finché una sera eravamo al festival di Cannes, figuratevi un po'. Io l'ho guardato e gli ho detto, accidenti papà, è tutto così facile per te. Ma perché gliel'avrò mai detto? Lui mi ha fatto sedere e mi ha chiarito le idee. È stato un sollievo scoprire che mio padre non era un superuomo, che ha dei problemi e che ci sono dei momenti in cui ha paura. E che a volte succede anche a lui di essere con le spalle al muro e ha paura di non farcela. È stata musica per le mie orecchie, perché anch'io a volte mi sento così. Beh, un supplente di scuola fu licenziato per una lite con uno studente. Dopo una settimana è tornato in quella classe, ha sparato allo studente senza ucciderlo. Ha preso la classe in ostaggio e alla fine si è sparato uccidendosi. Una cosa mi ha incuriosito. Una frase scritta dal giornale. Un vicino ha descritto l'insegnante come una brava persona che leggeva sempre il giovane Holden. Quel povero Chapman che uccise John Lennon lo aveva fatto solo per attirare l'attenzione del mondo sul giovane Holden. E disse che quella lettura sarebbe stata la sua difesa. Il giovane Inclin, quello che sparò a Reagan e al suo addetto stampa, disse, se volete la mia difesa dovete leggere il giovane Holden. Il giovane Inclin, quello che si è sparato allo studente del mondo sul giovane Holden. Il giovane Holden, quello che si è sparato allo studente del mondo sul giovane Holden. Il giovane Holden, quello che si è sparato allo studente del mondo sul giovane Holden.